Ora il particolarissimo piacere di dare la parola alla nostra ospite, la professoressa Costanza Onorati, anche se per la verità è chiaro che come ospite sarebbe piuttosto lei a doverla dare a me, ma insomma faremo un'eccezione. La professoressa Onorati ci intratterrà sul tema il diritto applicabile dal Tribunale unificato, diritto Unione Europea, diritto internazionale, diritto interno, cioè investirà direttamente quel crocevia di fonti che io avevo indicato all'inizio come una possibile fonte a sua volta di gravi e discutibili problemi. Parola alla professoressa Onorati. Grazie, grazie moltissime, anzi sei assolutamente tu che devi darmi la parola e te ne sono molto grata. Io dopo aver sollecitato i relatori a lungo perché stessero dentro i 20 minuti, ho un obbligo morale di stare possibilmente meno di 20 minuti, ma non so se mi riuscirà. Il mio tema parte da un dato normativo certo, un punto fermo, che è l'articolo 24 dell'accordo che elenca la solita gerarchia delle fonti, quindi dal diritto dell'Unione al diritto nazionale passando per le due fonti convenzionali. Nell'accordo UPC ricorderei anche le rules of procedure che ormai quando verranno adottate faranno parte integrante dell'accordo, benché dal punto di vista gerarchico siano sottordinate. E poi i due fonti convenzionali in senso lato. Niente di nuovo, niente di strano, l'abituale gerarchia delle fonti merita però di essere forse segnalato che questa struttura, questa gerarchia e questa corretta gerarchia è frutto di una ultima correzione all'accordo, perché già nell'accordo invece del 2011 l'accordo UPC risultava in posizione precedente rispetto al diritto dell'Unione europea, cosa che non era nella sostanza ma formalmente avevano fatto questo sbadataggine che poi è stata messa a posto. Ha già detto il professor Baratta, ha ricordato che c'è una norma specifica sul primato del diritto dell'Unione europea e ha giustamente sottolineato che principio noto, banale, comune, ormai assolutamente metabolizzato, ma che non trova un'altra formulazione normativa. È la prima volta che in un testo di un accordo internazionale viene dichiarato il primato del diritto dell'Unione europea. Vediamo quindi in particolare il diritto dell'Unione europea, cosa significa che il trattato, che la Corte dovrà applicare il diritto dell'Unione europea, perché qui dentro c'è tanta roba. Ci sono evidentemente due regolamenti che l'accordo richiama formalmente ma non ce ne sarebbe bisogno perché è ovvio che siano applicati. Ci sono poi tutti gli atti in materia di diritto derivato, in materia di proprietà intellettuale. Ricordo per tutti la direttiva enforcement del numero 48 del 2004, ma anche merita di essere ricordate brevemente le norme del diritto della concorrenza. Forse qualcuno stamattina, forse il professor Di Cataldo, aveva raccontato, aveva brevemente accennato come sono molti problemi o le possibili interferenze tra diritto brevettuale e diritto della concorrenza. Poi ci sono però all'interno del corpus normativo dell'Unione europea tutti gli strumenti che regolano la cosiddetta cooperazione giudiziaria, alla quale faceva riferimento la professoressa Partagast al punto di vista diciamo internazionale e che nell'ambito dell'Unione europea sono regolati dai due regolamenti che credo siano noti a tutti, Bruxelles 1 e Roma 2 sulla giurisdizione e riconoscimento delle decisioni e sulla legge applicabile. Ma merita ricordare che all'interno del corpus normativo dell'Unione europea c'è senz'altro anche la Carta dei diritti dell'Unione, in particolare credo che potrebbero venire in rilievo articoli, principi, diritti come il diritto alla proprietà privata, ma probabilmente anche molti diritti in tema di diritti processuali sulla efficienza del giudizio piuttosto che principi processuali che sono codificati come diritti fondamentali. E poi non dimentichiamo quella, come posso dire, clausola generale che sono i principi generali di diritto che la Corte e Giustizia ha utilizzato tante volte in modo molto proficuo e che sono lì, non si sa bene che uso se ne farà. Evidentemente troppa roba per poterla occuparmi nell'ambito dei 20 minuti che scorrono rapidamente, quindi io mi soffermerò sui due atti diciamo che attengono di più alla mia specificità anche professionale, quindi Bruxelles 1 e Roma 2, dove si pongono problemi che rispetto alle questioni di cui abbiamo parlato stamattina sembrano lontani o sembrano specificità troppo piccole, ma che in realtà anche esse incidono notevolmente sul funzionamento del sistema, anche perché io credo che queste saranno probabilmente due veicoli attraverso i quali la Corte di Giustizia potrebbe, potrà eventualmente riuscire a avere accesso all'interpretazione del pacchetto in qualche modo. Sappiamo che uno dei punti delicati proprio di policy sottostante è la Corte di Giustizia, non la vogliamo però non possiamo più di tanto tagliarla fuori perché è Unione Europea, quindi in qualche modo questa Corte di Giustizia dobbiamo farci conti e i due strumenti appunto Bruxelles 1 e Roma 2 saranno sicuramente secondo me due strumenti che potranno, come posso dire, risultare un varco, creare un varco al diritto, al pacchetto del brevetto. Allora partendo da Bruxelles 1, anzi dirò subito che su Bruxelles 1 mi soffermo pochissimo perché poi mi concentrerò di più su Roma 2. I problemi di Bruxelles 1 in realtà sono molto più numerosi ma molto più complessi, ho distribuito una slide, delle slide con la speranza che almeno qualche idea sia, possa essere intanto veicolata. Diciamo che i problemi legati al regolamento e rapporti con Bruxelles 1 sono legati al fatto che l'articolo 31 del test del Tribunale Unificato richiama, rinvia al regolamento Bruxelles 1 per la determinazione della giurisdizione, della competenza internazionale del Tribunale e poi regola al proprio interno, all'articolo 33 accennato la dottoressa Tavassi, tutta una serie di norme sulla competenza interna, quindi sulle numerose divisioni, dieci differenti comma con diversi rapporti. Ora in realtà Bruxelles 1 non nasce come strumento di giurisdizione dell'area dell'Unione Europea, nasce come strumento di giurisdizione dei singoli stati, come strumento per la disciplina della giurisdizione della competenza internazionale dei singoli stati. Qui viene, come posso dire, upgraded a un livello diverso dal quello nel quale effettivamente lui era destinato a operare e quindi la Commissione si è dovuta fare carico di modificare Bruxelles 1 con una proposta che è stata presentata quest'estate, luglio di quest'anno, molto complessa, sulla quale adesso non mi soffermo, che solleva moltissimi problemi sui quali rinvierò alla relazione scritta. Sostanzialmente il problema è legato a come determinare la giurisdizione non solo nei confronti dei convenuti domiciliati all'interno dell'Unione, ma soprattutto nei confronti dei convenuti non domiciliati all'interno dell'Unione. E notate che qui si parla di domiciliati nell'Unione, non negli stati parte all'accordo, quindi noi o gli spagnoli, se anche non dovessimo entrare, non rientriamo nel concetto di convenuto non domiciliato, ma rientriamo nella prima categoria nei confronti dei quali il Tribunale avrà comunque giurisdizione. Ma su questo non mi soffermo, se non per segnalare molto rapidamente una linea di problemi, neanche uno, in particolare con riferimento al forum commissi delicti, il foro del luogo nel quale avviene la violazione del diritto brevettuale. I problemi qua io ne vedo tre, almeno di tre diversi tipi. Uno, nell'ambito di Bruxelles 1, è un criterio di competenza territoriale, definisce il giudice, non il sistema. E quindi elevarlo a criterio di giurisdizione pone tutta una serie di problemi che vedremo in un altro luogo. Secondo problema, sapete tutti, Bruxelles 1, articolo 5, numero 3 di Bruxelles 1, è interpretato in modo costante da sempre come luogo, foro che si scinde in azione e evento, azione e danno. Sappiamo altrettanto però che in materia di proprietà intellettuali tendenzialmente la dottrina dice no, no, non c'è un'azione, c'è soltanto un danno. Il sistema brevettuale unitario secondo me potrebbe rimettere in discussione questo principio, questo dogma e certamente avremo un problema della Corte di Giustizia che bisogna vedere come interpreterà l'articolo 5.3 con riferimento al sistema brevettuale. Se effettivamente fosse possibile identificare un luogo dell'azione, un foro dell'azione, un foro del danno, si porrà il problema che credo assolutamente rilevante di come eventualmente quale sia la estensione della giurisdizione del foro del danno, perché qui la giurisprudenza dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia è pacifica nel senso che non ha una giurisdizione piena, equiparabile al foro generale del domicilio o al foro dell'azione. Ma come dicevo tutti questi problemi, tutti questi aspetti non li tocco, non sono l'oggetto principale della mia relazione perché io mi soffermerei invece sui problemi di legge applicabile. In particolare problemi di legge applicabile nel momento della contraffazione, non perché la validità, le azioni sulla validità di un brevetto non pongano dei problemi di legge applicabile, ma perché evidentemente la maggior parte delle questioni può essere risolta all'interno del sistema diciamo con riferimento alla Convenzione sul brevetto europeo. Mentre né il regolamento né l'accordo né tantomeno evidentemente la Convenzione sul brevetto europeo regola in modo chiaro, diretto, che cosa sia contraffazione e soprattutto quale sia la legge applicabile alla violazione. Questo è un punto molto importante perché abbiamo già visto stamattina che non c'è un brevetto unitario unico, ma c'è un brevetto nazionale che produce effetti unitari. C'è un brevetto nazionale all'origine che tramite una serie di registrazioni successive, prima come brevetto europeo, poi come brevetto effetto unitario, estende i propri effetti su tutto il territorio degli stati parte all'accordo. Ecco dunque che si pone un problema di legge applicabile. Il problema di legge applicabile il tribunale dovrà risolverlo applicando diritto dell'Unione europea, in particolare applicando il regolamento Roma 2, al cui interno c'è una norma, l'articolo 8, che regola la violazione dei diritti della proprietà intellettuale. Articolo 8, che a sua volta è diviso in due parti. Articolo 8, 1, brevetto nazionale o brevetto europeo, brevetto to court, diritto alla proprietà intellettuale to court, e articolo 8, secondo comma, che invece fa riferimento al diritto di proprietà intellettuale comunitario a carattere unitario. Oggi finalmente possiamo dire il brevetto effetto unitario. Due diversi articoli, due diversi commi, perché due diversi criteri di collegamento, mentre per il brevetto nazionale normale, anche brevetto europeo, si applica la lex loci protezionis, criterio tradizionale, classico, sul quale non mi soffermo, che nell'ambito del tribunale unificato potrebbe porre un problema in relazione all'articolo 34 dell'accordo, articolo che precisa che le decisioni della corte, hanno del tribunale, avranno un'efficacia estesa a tutto il territorio, e qui si pongono secondo me dei problemi in relazione alla legge applicabile, ma criterio che, diciamo dal punto di vista applicativo, non pone problemi particolari. Viceversa, questo criterio non è utilizzabile, non è un criterio valido, con riferimento a un diritto che per definizione nasce con un'efficacia territoriale ampia, quindi non con riferimento a una lex loci protezionis, ma a un territorio protezionis nel quale non c'è però una legge unitaria, quindi quel criterio lì non va più bene evidentemente. E allora già nel 2007, quando è stato radatto il regolamento Roma 2, si è fatto ripiego sul criterio tradizionale dell'ex loci delicti. L'ex loci delicti che pone problemi particolari, perché l'articolo 8 secondo comma dice che la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione, ma aggiunge per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario. Ora qual è il senso di questa norma? Il regolamento Roma 2 è stato emanato nel 2007 e quindi era parallelo per un certo periodo di tempo al periodo in cui era in gestazione il regolamento comunitario vero e proprio e quindi l'idea era, per il brevetto come già per i marchi e per i disegni industriali, di far salve le disposizioni uniforme contenute nel regolamento e escluderle dal gioco del rinvio alle leggi nazionali che quindi erano evidentemente differenziate, diverse nei singoli stati. Quindi la legge applicabile valeva, la determinazione della legge applicabile valeva nella misura in cui non ci fossero degli aspetti regolati nello strumento comunitario. Adesso questa precisazione complica, complica enormemente perché se da una parte vuol dire che evidentemente un problema di legge applicabile non si pone in relazione a tutti gli aspetti che sono regolati nel regolamento, in modo altrettanto chiaro l'articolo 8 secondo comma del regolamento Roma 2 esclude che il tribunale possa fare applicazione diretta dell'accordo nel quale effettivamente lui fa parte. Quindi non c'è un'applicazione diretta dell'accordo ma c'è un'applicazione, vedremo, molto più contorta, molto più complicata. Il primo punto però da capire è cosa rientra nel regolamento del regolamento. Che cosa è effettivamente regolato dal regolamento? Tre questioni secondo me, tre principali questioni, tre aspetti in particolare nell'articolo 5. Uno, dice l'articolo 5, primo comma, il titolare del brevetto, il brevetto attribuisce al titolare il diritto di impedire il compimento di atti, quindi un rimedio uniforme, il diritto all'inibitoria. Due, definizione degli atti vietati, articolo 5, terzo comma, che non vi consiglio di leggere ma credetemi lo scopo, il concetto è di definire in modo indiretto, col meccanismo che andremo a vedere, che cosa effettivamente è vietato, il titolare del diritto può vietare tramite l'inibitorio. Terzo punto di uniformità del regolamento, tra disposizioni uniformi del regolamento, articolo 5, secondo comma, la legge applicabile, come andremo a determinarla, alla violazione brevettuale, non è limitata al territorio nazionale, come siamo abituati a pensarla in tutte le molteplici anni di territorialità del diritto brevettuale, ma ha un ambito di estensione molto più ampio, esteso a tutti gli Stati parte della cooperazione riforzata. Allora, per tutte le altre questioni non regolate nel regolamento, sarà gioco forza fare rinvio alla legge applicabile, in particolare all'ex loci delicti. Vedremo poi, se mi avanza un minuto, cosa concretamente rientra quindi nella legge nazionale. Adesso, molto brevemente, il diritto di impedire il compimento di atti significa che sono fuori dal regolamento, per esempio, gli strumenti risarcitori, gli altri rimedi previsti nella direttiva enforcement, che non sono menzionati nel regolamento e quindi non hanno natura di rimedio dell'Unione Europea che prevale quindi sul rimedio nazionale. Saranno applicabili, ma avvia un meccanismo molto più complesso. Per tutti questi aspetti, legge nazionale, le ex loci delicti. Ma il punto più complicato è la definizione degli atti vietati, che già stamattina il professor Guglielmetti e poi forse anche il professor Caggiano hanno ripreso questo ragionamento così contorto del legislatore europeo e speriamo che la Commissione non si lasci più convincere o costringere a inventare un meccanismo così contorto, perché questi sono sostanzialmente i passaggi. L'articolo 5.3 non lo definisce direttamente, lo definisce per relazione con riferimento all'articolo 7.1 del regolamento, che a sua volta non definisce questi atti, ma fa riferimento alla legge nazionale, alla legge nazionale del luogo di residenza del titolare del brevetto. L'abbiamo già detto. Ma cosa c'è dentro la legge nazionale? La legge nazionale di uno Stato parte all'accordo sul Tribunale Unificato, contiene necessariamente le norme di adattamento a questo accordo e quindi contiene anche questi articoli 25, 26, e 27, che già stamattina sono stati ricordati dal professor Guglielmetti, così che si può dire che in ultima istanza l'articolo 5, e con grande approssimazione, l'articolo 5, 3 del regolamento richiama gli articoli 25, 26, 27, richiama questo concetto del diritto diciamo dell'unione o di una norma che richiama, rinvia una fonte di un altro ordinamento per regolare una sua parte, il regolamento non regola gli atti vietati, ma rinvia ad altre fonti, è in realtà un meccanismo noto nell'ordinamento internazionale e nazionale, assolutamente consueto, qui estremamente complesso e complicato per via di questo doppio rinvio, ma un ordinamento, un meccanismo già noto, che pone due problemi, quello di capire se si tratta di rinvio materiale o formale, sembra un aspetto teorico ma ha delle conseguenze pratiche credo molto importanti. Cosa vuol dire rinvio materiale? Significa che la norma che rinvia, rinvia una fonte ma ne prende soltanto il contenuto materiale, cioè soltanto la disposizione materiale di quella norma nazionale, ma quello che la natura, la fonte di quella norma resta tale, quindi la norma del regolamento rinvia al diritto nazionale, che rinvia alla fonte convenzionale, ma come posso dire il contenitore resta una norma dell'Unione, che resta quindi di fonte dell'Unione Europea. Se invece dovessimo ritenere che si tratta di un rinvio formale o internazionale privatistico, il discorso è molto diverso. Rinvio formale significa che la norma che rinvia, rinvia alla fonte di un altro ordinamento, quindi quello che viene concretamente richiamato è una norma nazionale che resta, una norma internazionale, che resta tale, non viene comunitarizzata. Allora sono sicura che capite tutte le implicazioni della diversa costruzione teorica sottostante a questo ragionamento, perché dove si dovesse optare per la prima formula del rinvio materiale, tutto quello che, in particolare gli articoli 25, 26 e 27, sì sono contenuti in un accordo, sono contenuti nel diritto nazionale, ma in realtà hanno natura di diritto dell'Unione Europea. Viceversa, dove si dovesse ritenere che è un rinvio internazional privatistico, un rinvio formale in senso proprio, c'è come una cesura tra piano del diritto dell'Unione Europea e piano nazionale. Ora è presto per dare una soluzione, voglio soltanto ricordare che questo meccanismo è già previsto anche nella Convenzione sul brevetto europeo. L'articolo 64 fa lo stesso meccanismo di rinviare al diritto nazionale per il contenuto del brevetto e in quel sistema lì ormai la dottrina è abbastanza unanima in ritenere che è un rinvio materiale, quindi resta una norma convenzionale. Sappiamo però che la mens legis, cosiddetta, l'interpretazione autentica non è nel senso che le norme dell'accordo siano norme comunitarie, quindi io mi limito a segnalare il problema perché in realtà il punto che mi interessa è capire ancora cosa fa parte del regolamento. Estensione della legge applicabile al territorio di tutti gli Stati parte la cooperazione rafforzata. Articolo 5, secondo comma, la legge applicabile come l'ex loci delicti in concreto non è limitata al territorio di un singolo Stato perché se no saremmo al punto di partenza dal quale ci siamo mossi, ma si estende a regolare la violazione ovunque questa sia potenzialmente suscettibile di manifestarsi. Questa è una norma che da un certo punto di vista è uno shock per un teorico o per uno che per anni e anni e anni ha letto che diritto alla proprietà intellettuale, principio di territorialità, principio di territorialità e non ci si muove da lì, perché questo significa che tutte le barriere teoriche astratte che impedivano che la legislazione interna di uno Stato che garantiva e che accordava il brevetto potesse garantire la protezione di quel brevetto al di fuori del territorio, imprevisamente non sono più valide e io ricordo che il brevetto che c'è alla base è il solito brevetto nazionale che viene registrato due volte ma non è cambiato molto nella sua struttura e quindi questo come posso dire c'è un superamento del principio di territorialità che pone tutta una logica diversa. Cosa regola l'Alex Loci Delicti dunque se questi tre profili restano accorpati nel regolamento? Sostanzialmente bisognerebbe fare riferimento all'articolo 15 del regolamento Roma 2 che regola l'ambito di applicazione della legge applicabile quindi della Lex Loci Delicti ma in due parole direi che soprattutto le cose che a noi interessano di più sono tutte le tematiche relative al risarcimento del danno cioè i condizioni e i presupposti dell'azione esercitoria ma soprattutto la natura e la valutazione del danno liquidato che sono molto diverse da legislazione a legislazione che verranno forse in parte corretti dalle rules or procedure uniformi ma quelle sono disposizioni procedurali che non intaccano in realtà sul diritto sostanziale quindi comunque sarà necessario andare a vedere la legge applicabile che cosa consente che cosa prevede. Io sono già andata fuori tempo quindi mi fermo anche se sull'ultima slide ho tirato un pochino via ma mi sembra doveroso fermarmi. Grazie.